il campo lino per me l'ha cercato un po', sicuramente non sono bravo, ma non è arrivato a fare niente, l'importante è che mi avviva, non sa sinceramente. Come giudichi l'organizzazione è stata la tua relazione con la finalizzazione mentale? Abbastanza bello, sono ancora al 100% che ho sentito ancora un po' i carichi di lavoro che abbiamo fatto in settimana, però piano piano abbiamo trovato in condizione. Non sono fatti entrare in una situazione nuova, è stato un po' casuale il primo perché sono i prosti ai piatti, ci pensiamo a 20 e soprattutto i 3 kg. Adesso si va sia nel campo stimolante? Stimolante sicuramente, entriamo là senza paura, è un vecchio di persone ad essere un bel amici al suo campo. Il mister è un'intervista del suo campo, è un obiettivo reale? Sinceramente non conosco il dolore delle altre squadre, per cui non posso dirtele, però quest'anno secondo me sono andata la squadra. Ripeto, bisogna cercare di fare un bravo a tre punti sul campo. Sopra la salvezza sarà tutto bene. In questo modulo ti trovi al primo tempo? Ci tornerà bene, sembra che voglio venire da altra parte, perché abbiamo non c'è a meno contro di passione. Però mi trovo insieme con un'ercitazione che abbiamo fatto. Il punto di guarda è benissimo. E andate giù. Grazie.